Musica 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 Ciao Nome dell'idea Customer Playground around the corner P-Value Research L'idea si chiama SENT Targeting gut disease Il nome dell'idea si chiama Progetto Tarot Good deed Spiega questa idea mia nonna Si chiamo tua nonna? Nonna Bianca Bianca, con la nostra idea avrai la possibilità da qui nei prossimi 5 anni Coltivare il basilico tutto l'anno, di fare un impesto anche a dicembre e di insegnare al tuo mipotino com'è Controllare facilmente qualunque dispositivo domestico Perfetto, quanti soldi avete bisogno? 200 mila 200 mila euro 200 mila euro di partenza Mezzo milione di euro 460 mila euro Ok, wow Theo lop ... ... Brq 지는 Inter At Chi Autore dei sovrapposti